L'azione che le posso confermare già da adesso è rimanere in aula domani dopo la fine dei lavori, noi deputati e anche i senatori, a leggere passi della Costituzione e del regolamento proprio per ridare centralità a quelle che sono le regole del Paese. Dopodiché altre ne concorderemo in questa giornata e verranno annunciate in conferenza stampa oggi pomeriggio. Quindi una sorta di occupazione del Parlamento. Occupazione è un termine un po' che evoca, diciamo riappropriazione da parte dei cittadini del Parlamento, sì, questo sì.